È terminata l'attesa per i lavori allo stadio comunale Marco Tomaselli, la prossima settimana partiranno per la realizzazione del manto erboso sintetico, attesa già dalla fine dello scorso anno, poi slittata alla fine di gennaio e inizi di febbraio. Così dopo gli ultimi passaggi di agidicazione della gara, l'appalto è giunto al momento di inizio dei lavori, sui quali l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone dichiara che nella giornata di ieri sono stati consegnati i lavori alla ditta Anastasi per la realizzazione del manto in erba sintetica. Si avvia quindi la parte esecutiva, dice ancora l'assessore, che porterà alla posa del manto sintetico da lunedì. Inizieranno materialmente i lavori con la verifica altoplanimetrica del campo. I lavori si concluderanno entro quattro mesi, consentendo di avere nella tarda primavera il campo di gioco completamente rinnovato. Con questo intervento di rifacimento migliorirà il campo con manto e permetterà agli atleti di sfruttare al massimo l'impianto sia per il calcio che per il rugby.